Questo è un video promozionale, te lo dico fin da ora perché ormai Halloween si sta avvicinando e voglio spiegarti i motivi per i quali dovresti comprare i miei due ultimi romanzi, L'isola dei morti e L'incubo dietro la porta, ma lo farò subito dopo la sigla. Buongiorno a tutti da Fabrizio Varenza, scrittore e filosofo e bentornati sul mio canale Narrazioni e Vita. Sì, ve l'ho già detto, questo è un video promozionale, però se avrete la pazienza di seguirmi per qualche minuto capirete subito perché vi converrà effettivamente ascoltarmi e soprattutto comprare i due libri che vi voglio presentare per la promozione. Oggi sono libri che probabilmente già conoscete se seguite il mio canale, ma comunque io ve ne parlerò lo stesso. Si tratta del romanzo gotico horror che ho pubblicato l'anno scorso, L'isola dei morti, e di quello che invece ho pubblicato quest'anno, cioè L'incubo dietro la porta. Allora, innanzitutto di che cosa si tratta? L'isola dei morti è la storia di un antropologo che si reca sull'isola soprannominata per l'isola dei morti di fronte alla costa di Zoagli in Liguria a fine ottocento perché vuole fare delle ricerche sui riti pagani che lì si celebrano, che sembrano legati per l'appunto alla morte e benché qualcuno lo sconsigli di farlo, quando si recherà lì scoprirà delle cose sconvolgenti che ovviamente non vi racconto. Mentre invece L'incubo dietro la porta è ambientato ai nostri giorni e racconta la storia di un guardiano notturno, Enrico Malera, al quale un suo caro amico diventato ricco dai tempi in cui frequentavano la scuola assieme, e gli chiede di guardare la sua grande villa nella cittadina, ai margini della cittadina di Verulengo, in provincia di Verona. Ed ecco che quando Enrico finalmente riesce a mettere piede dentro la grande e ricca villa del suo amico Gianfranco, villa nella quale aveva desiderato più volte entrare, scopre che cosa si cela lì dentro ed è un orrore crescente. Allora, vi spiego innanzitutto in cosa consiste la promozione perché prevede ben tre cose. Prima promozione riguarda gli ebook. Il formato ebook dell'Isola dei Morti infatti costa normalmente 3 euro, 2 euro e 99. La promozione prevede una vendita a 1 euro e 49 centesimi fino ad Halloween. Quindi fino ad Halloween compreso avrete la possibilità di comprare l'ebook dell'Isola dei Morti a 1 euro e 49. La seconda promozione riguarda invece l'ebook dell'incubo dietro la porta, che costerebbe di per sé 4 euro, 3 euro e 99, ma fino ad Halloween compreso l'ebook costerà soltanto 1 euro e 69 centesimi. Quindi, che dire, io vi consiglio di riversarvi immediatamente per effettuare questo acquisto. Però attenzione, c'è una terza promozione che riguarda invece i cartacei e questa è una promozione molto limitata perché io ho poche copie del cartaceo e vorrei spedirvele anche con il mio autografo nel caso in cui lo vogliate. Ma spieghiamo bene questa promozione. Allora, prevede la vendita in coppia dei due libri, quindi il formato cartaceo con la copertina morbida dell'Isola dei Morti più il formato cartaceo con la copertina morbida dell'incubo dietro la porta. Guardate, sono due begli oggettini, sono fatti molto bene e assieme a questi due libri io vi unirò anche dei piccoli gadget, mettiamola così. Sono due segnalibri dell'Isola dei Morti e poi, attenzione, questa la potete avere soltanto in questo modo, la cartolina dell'idolo di Verulengo illustrata, disegnata da Enrico Valenza. Ovviamente allegherò tutto insieme in un unico pacchetto. Questo pacchetto con le copertine morbide, i due segnalibri dell'Isola dei Morti e la cartolina dell'idolo di Verulengo costerà soltanto 15 euro, spedizione compresa. 15 euro spedizione compresa che dunque dovrete ovviamente scrivermi in privato e mandarmi il vostro indirizzo e dire che volete questa con la copertina morbida, quindi 15 euro spedizione compresa. Mentre invece la versione con la copertina rigida, eccola qua, l'Isola dei Morti e l'incubo dietro la porta, assieme sempre con i due segnalibri dell'Isola dei Morti e la cartolina dell'idolo di Verulengo e ovviamente con la dedica compresa, costeranno soltanto 28 euro anziché 30. Spedizione compresa. Quindi questa è una possibilità che avete soltanto per questo periodo e finché non finiscono le copie. Non ne ho moltissime e si stanno esaurendo perché in realtà le stanno già acquistando, quindi me ne rimangono veramente poche. Dunque vi consiglio di sbrigarvi a richiederle se avete il desiderio di avere questo tipo di promozione per voi. Affinché non vi basiate soltanto sulle mie parole, io vi lascio anche le parole di alcuni siti che hanno già recensito questi libri e per esempio io incomincerei dall'esperienza dell'Isola dei Morti, visto che è il romanzo che ho pubblicato ormai l'anno scorso. Ed ecco, vi leggo soltanto un brano, un piccolo brano della recensione che fece La bottega dei libri, che disse quanto segue. Fabrizio Valenza, nella sua tecnica colta, nella sua infinita attenzione ai particolari, dagli ambienti alla ricerca delle parole, ha creato un romanzo che non vuole solo narrare, ma farci immergere in un'antropologica ricerca di riti arcaici e popolazioni antiche, oltre che in un lavoro immenso ed interiore della personalità del suo protagonista e di conseguenza anche della nostra. Grazie, direi veramente, alla bottega dei libri. Però poi passiamo all'incubo dietro la porta con un brano della recensione di Muatiland.com che scrive quanto segue. La tensione crescente che Valenza costruisce tiene incollati alle pagine. Il fatto che per gran parte del libro Enrico sia l'unico personaggio in scena non pesa per niente sul ritmo della narrazione. Inoltre, il protagonista è dipinto come umano e imperfetto, cosa che rende possibile la quasi istantanea immedesimazione con lui. Seguiamo la sua storia con il fiato trattenuto, consapevoli che qualcosa di minaccioso e terribile sta per piombargli addosso. Bella, no? E poi c'è anche la recensione di libri e recensioni che dice quanto segue. Avvincente, intrigante, l'incubo dietro la porta è un horror che se amate il genere non potete perdere. Un'opera adatta anche per i primi passi in questa dimensione narrativa della paura. Quindi anche chi non ha una grande dimestichezza con l'horror in realtà può leggere questo romanzo perché non è quello che viene definito body horror, se no proprio in un pezzettino così finale. Mettiamola giù in questo modo. È un horror che in realtà si adatta un po' a tutti, ma non perché non sia inquietante, ma perché ha un approccio che è graduale e poco alla volta riesce a farti entrare effettivamente nell'ambientazione, nell'atmosfera. Ma poi c'è un ultimo pezzettino di recensione, questa volta dal blog Le Fleur du Mal che vorrei leggervi perché la trovo molto azzeccata e dice quanto segue. In un passaggio che mescola l'onirico con il reale tra eventi strani che iniziano a verificarsi all'interno di quella casa Enrico ha paura e quella paura, quella tensione emotiva la trasferisce al lettore invadendogli la testa senza alcuna pietà. Non mi rimane da far altro che invitarvi di nuovo a fare questo tipo di acquisto. Scrivetemi in privato se volete il pacchetto con le due copie del libro formato cartaceo con la copertina morbida oppure formato cartaceo con la copertina rigida, i due segnalibri e la cartolina L'Idolo di Verulengo, oppure andate subito su Amazon ed effettuate l'acquisto degli e-book in questo formato di prezzo ridotto. Ricordatevi la promozione dura fino a Halloween compreso. Ciao e buona lettura!